Sono Luca Radaelli, sono attore, regista, organizzatore, direttore di festival. Insomma, la compagnia che dirigo Teatro Invito esiste da quasi 40 anni e facciamo attività sulla città di Lecco e sulla sua provincia e sul suo territorio. Organizziamo diversi festival, facciamo diversi spettacoli. Lo spettacolo che avremmo presentato al festival si intitola Macbeth Banquet, è una rivisitazione dell'opera shakespeariana. Io sono in scena, faccio la parte di un cuoco e con me Maurizio Liffi ha la chitarra elettrica. Quindi quello che facciamo come Teatro Invito è produzione di spettacoli sia per adulti che per ragazzi. Nel caso specifico ho incontrato un lavoro con gli oggetti che si avvicina al teatro di figura, anche se io normalmente faccio un teatro d'attore, ma mi piace fare delle incursioni anche negli altri generi. Lavoro spesso con musicisti, ho lavorato e lavorerò con burattinai, animatori. Quindi è bella questa commistione. Quando le sorti della battaglia erano incerte come due nuotatori che si aggrappano l'un l'altro rischiando entrambi stanchi di affogare. Da una parte Macdonald lo spietato, venuto dalle isole dell'Ovest con rinforzi da piede e da cavallo. E dall'altra il nostro esercito stremato, ecco che viene Macbeth, il coraggioso e con la spada che fumava per il sangue. Menando a destra manca dei fendenti, si è fatto strada fino al traditore e senza dirgli buongiorno o buonasera, gli scuce il dentre dall'ombelico al mento e infilza la sua testa su un pennone. Ma a questo punto, con una gran tempesta che scoppia proprio nel punto in cui sembrava risplendesse il sole, da ciò che pareva la salvezza comincia la nostra perdizione. Mentre Macbeth, armato di coraggio, metteva in fuga un esercito sbandato, il signore del nord con le sue orde in mani si riversa su noi e a fargli dare incalzo il barone di Codor, ignobile traditore. E Macbeth si è forse perso d'animo? Sì, come un leone di fronte ad un coniglio, come un'aquila che in passero si imbatta. Colpo su colpo gli ribatte Macbeth, raddoppia il ritmo doppio dei suoi colpi, gli fa sbattere il muso contro il ferro e abbatte il suo selvaggio ardore. E finalmente la vittoria è nostra! E a questo punto il re nemico dovrà seppellire i suoi morti. Il barone di Codor non tradirà più. Voglio dare il suo titolo a Macbeth e lui lo condanno a morte. Ecco, vi ho mostrato l'inizio dello spettacolo, adesso vi mostro dove sono io adesso. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, lo vedete lì alle mie spalle. E qui invece in questa cucina dove vi ho riallestito Macbeth Banquet e dove poi anche io mi trovo a lavorare al computer. E quindi è da qui che vi mando questo mio messaggio benaugurante per Arrivano dal mare e per tutti gli amici che stanno lavorando per questo festival bellissimo a cui avrei dovuto partecipare e che è sospeso. Quindi innanzitutto tutti noi siamo solidali con coloro che hanno lavorato per mesi per fare questo festival e si trovano in questa situazione. Che dire, teatro è teatro dal vivo, è teatro in carne ed ossa, o anche in legno e stoffa nel caso del teatro di figura, ma insomma in presenza, con le persone vicine, con le persone che possono essere investite dall'energia dell'attore o dell'animatore. Un tempo si sarebbe detto contagiate dall'energia del teatro e a volte appunto le parole assumono strani significati. Quello che voglio dire è che sicuramente torneremo ad avere questo genere di relazione. Noi abbiamo fatto una quarantena durante la quaresima come si faceva una volta prima di carnevale ed era esattamente il periodo in cui gli attori non guadagnavano niente ed è per questo che il colore viola ancora adesso viene considerato di cattivo auspicio per i teatranti. Purtroppo la nostra quarantena o quaresima non durerà 40 giorni ma molto di più, ma ricordiamo che anche ai tempi di Shakespeare la peste aveva chiuso i teatri per un anno eppure Shakespeare è tornato a fare teatro meglio di prima e questo teatro è rimasto nei secoli ed è arrivato fino a noi. Quindi noi confidiamo nel fatto che anche questo sia semplicemente un momento di passaggio ma noi lo sfruttiamo questo momento di passaggio per poter pensare, riflettere e valutare quello che abbiamo fatto fino adesso e quello che possiamo fare di qui in poi. Per esempio l'idea che bisogna limitare il numero degli spettatori che in realtà noi abbiamo sempre considerato come una cosa positiva. Le compagnie come le nostre hanno spesso fatto spettacoli per un numero limitato di spettatori, fossero essi adulti o bambini, magari con dei percorsi, con degli itinerari, quindi con degli spazi alternativi. Ora non è così impensabile di fare altrettanto con degli spettatori con una distanza spaziale gli uni dagli altri. Allo stesso tempo però il fatto di riuscire ad adattarsi alle nuove situazioni non vuol dire che dobbiamo abbassare il tiro, la qualità, l'impegno, anzi secondo me la sfida è proprio questa, di riuscire a fare ancora meglio con degli strumenti magari nuovi o con delle soluzioni spaziali nuove, ma sempre con la consapevolezza che il nostro lavoro è e deve essere considerato essenziale quanto altri lavori e a questo proposito io propongo di eleggere il teatro a vaccino dell'anima perché tutti quanti abbiamo bisogno di uscire da questa dicotomia che in qualche modo ci viene imposta tra la salute fisica e quella economica, quindi come se le persone fossero semplicemente dei corpi che devono stare bene per poter produrre e non per poter entrare in relazione, che è quello che invece distingue l'uomo dalle macchine o dagli animali, quindi umani più che umani, noi ci proponiamo di restituire questa umanità che in qualche modo ci viene sottratta in questi giorni e di tornare a proporre la relazione teatrale, quindi la relazione nel qui e ora dello spazio-tempo teatrale come il più forte antidoto non tanto ovviamente al virus quanto alle sue conseguenze e quindi buon proseguimento di quarantena a tutti.